Ciao a tutte personcine speciali, benvenuti in un nuovo video. Oggi consigli per gli acquisti, ma prima di procedere passiamo alla sigla. Ciao a tutte personcine speciali, benvenuti in un nuovo video. Video in collaborazione di nuovo con Ana Luisa, perché io sono stata così entusiasta e loro hanno apprezzato così tanto il mio entusiasmo, prima di tutto da chiedermi alla fine com'era stata la mia esperienza e poi visto la gioia che ho avuto nel testare i loro gioielli mi hanno invitato a condividere con voi come mi sono trovata e come li ho conservati. E inoltre mi hanno inviato altri gioielli meravigliosi, perché di gioielleria si tratta, io non la chiamo nemmeno bisutteria, ma gioielleria, un qualcosa che per la sua alta manifattura ti rimane per sempre. Questo è il mio primo parere, ma una domanda che mi è stata posta e che forse mi verrà posta anche da voi è cosa mi è piaciuto di più. Posso dirlo? Innanzitutto che sono analergici. Io ho adorato il concept di Ana Luisa per il basso impatto ambientale. Infatti loro proprio producono gioielli con l'etichetta carbon neutral, che appunto significa che non è stato toccato l'ambiente, non sono state toccate risorse minerarie, assolutamente no. È tutto fatto nel rispetto dell'ambiente. Sono analergici, io mi sono trovata benissimo, non mi bruciano le orecchie mai indossando questi meravigliosi gioielli e che dirvi, avendo scelto dei gioielli placcati in oro, volevo condividere con voi cosa ho fatto per conservarli così bene. Innanzitutto i gioielli placcati, ma per tutta la gioielleria, vanno trattati un po' con cura, significa che non ve li potete portare a mare, significa che assolutamente non potete farci la doccia, è meglio che non ci facciate la doccia perché ovviamente questo facilita il deterioramento o la perdita della placatura. E io questo non l'ho mai fatto con i miei gioielli, di qualsiasi tipo di fattura. La seconda cosa, io sono solita riporre in questi sacchettini meravigliosi che Ana Luisa fornisce, la gioielleria. Ebbene, sì, io li tengo separati da tutti gli altri gioielli, in modo che non ci siano coloriture da parte di altri gioielli placcati e quindi si mantengano nel miglior modo possibile. Fatto questo, potete godervi i vostri gioielli Ana Luisa per tutta la vita, perché bene sì, sono gioielli che sono destinati a una grande resistenza e quindi a rimanere con voi per tanto, tanto tempo. Fatto questo, Ana Luisa mi ha inviato altri preziosi e un'offerta estiva per voi, perché bene sì, se volete fare un regalo importante o per un compleanno farvi un autorregalo perché ve lo meritate, ci sono i saldi estivi sul sito che metterò sotto impressione. Inoltre, oltre i saldi e lo sconto, avete il mio codice nominativo EMANUELA20. Prego, non c'è di che, arriverete a risparmiare tantissimo e avere questi meravigliosi gioielli e la consegna è veramente rapida. Detto questo, passo a farvi vedere cosa mi è arrivato. Innanzitutto, la prima cosa ho deciso di scegliere, perché mi hanno fatto scegliere, questa collana abbinata agli orecchini. Non potevo, me ne ho innamorata la prima volta e alla fine è stata mia. Guardate quanto è meravigliosa, guardate quanto è meravigliosa questa catena dorata. Se c'è qualcosa che io ho preferito, in verità mi sono piaciuti tutti, però se dovessi dire un gioiello che ho preferito dei gioielli di Ana Luisa è la Pariur verde, i gioielli col verde, perché il verde è un colore che adopero tantissimo come autunno profondo soft. e parleremo anche per quanto riguarda del vestiario, prima o poi di armocromia proprio nell'abbinamento dei bijoux al vestiario e al make-up. Oltre questo, mi hanno mandato altre due cose meravigliose. Innanzitutto ho scelto, anche andando un po' contro, questa collanina placcata in argento, in colore argento, con il cuore. Guardate quanto è bella. Guardate la cura nella confezione. È stupenda. Anzi, facciamo così. L'apro con voi, perché sono veramente, veramente innamorata. Guardate come è protetta, è protetto il ciondolo così bene. Voi troverete questa cura dei particolari in ogni gioiello di Ana Luisa. Guardate quanto è bella. È tanto semplice quanto preziosa. Io la trovo giovanile, amo i cuori. La trovo, secondo me, una collana per tutte le età. Perché è un punto luce che non può mancare nella collezione di gioielli. Mettiamolo nella sua sacchettina. E passo a farvi vedere un paio di orecchini di cui mi sono letteralmente innamorata e che quando li ho visti non credevo assolutamente ai miei occhi. Sono questi orecchini. Vanno di moda, diciamo, da un po' di mesi. Questi sono questi orecchini che vanno indossati proprio così, a lobo. Ma guardate quanto sono semplici e nello stesso tempo quanto sono eleganti. L'oro, la placatura è veramente qualcosa di stupendo. E passo anche questi a metterli nella loro sacchettina. Come vedete, sono di una comodità incredibile in quanto sono sottili, quindi non occupano spazio. Sono semplici quanto eleganti e conservano il vostro gioiello praticamente per sempre. Ma vogliamo parlare della sacchettina con cui mi è arrivato in precedenza il braccialetto. So, parliamone e parliamone tanto. Bene, il video finisce qui. Detto questo, vi invito, come al solito, con i saldi estivi, a dare un'occhiata al sito. Link in descrizione. Grazie, Anna Luisa. E non dimenticate il mio codice sconto. Emanuela20. Detto questo, se vi è piaciuto il video, se vi ho ispirato in qualche modo, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sulle uscite dei miei video, like, e seguitemi su tutti i social dove sono le passioni di Emma. E passioni di Emma su TikTok dove faccio anche dell'ironia sulla salute mentale e fisica legata alla mia particolare malattia rara. Perché fare informazione è molto, molto importante contro l'ignoranza. E detto questo, vi saluto caramente e passo a farmi il mio solito augurio che possa testarmi sempre, sempre bene. e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, Grazie.